Stefania Pezzopane, presidente della giuria. Siamo arrivati all'edizione numero 17, anche quest'anno un ospite d'onore importante. Si parlerà ancora una volta di poesia e ci sono tante novità. Una su tutte ne vogliamo citare il ritorno di questo concorso dedicato al carcere, detenuti che negli anni ha sempre riservato tante emozioni, dando anche prodotti culturali molto buoni in realtà. Saranno tre giorni intensi di poesia, letteratura, cultura e torna il momento d'incontro nel carcere di Costarelle dove ci sarà un momento straordinario perché ci sarà la premiazione del concorso dei detenuti e l'incontro tra i detenuti e il poeta ospite d'onore. Poi il momento finale con la cerimonia di premiazione, con i personaggi importanti che sono stati insegnati dalla giuria e con l'ospite d'onore che quest'anno è un grande poeta cinese, Yang Lian. È la prima volta che ospitiamo un grande poeta proveniente dall'Oriente cinese perché abbiamo già avuto un grande poeta giapponese e naturalmente vale in maniera forte tutto il lavoro fatto con gli studenti perché saranno gli studenti e la giuria degli studenti può designare l'ospite e il premiato finale. Quindi un momento importante per la città e per l'Abruzzo perché ci sarà il meglio della poesia contemporanea. Giuliano Tomassi, segretario del premio, ci sono tante novità in questa 17esima edizione, torna il concorso riservato ai detenuti quindi un momento che ha sempre riservato molte emozioni. C'è tutta la parte della scuola e per la prima volta ospitate un grandissimo poeta cinese. Sì, sì, Yang Lian è uno dei più grossi, ha ritenuto uno dei più grossi poeti cinesi e naturalmente di grossa levatura anche perché è stato proposto in una certa fase della sua esistenza persino per il premio Nobel, poi non se ne è fatto più niente. Per noi è una chicca di questo premio che è arrivata alla 17esima edizione con una grossa partecipazione della sezione A, cioè delle opere edite ma anche con la riapertura dell'edizione per i carcerati delle case circondariali italiane che hanno presentato una mole di opere veramente notevole, cioè la partecipazione è sempre stata molto intensa quella delle carceri, nonostante ci sia stato lo stop di tre anni, riapriamo alla grande anche con questa sezione del concorso.